Ed eccoci qua, eccoci qua, Fabio Cantelli, benvenuto qui su Daily Cogito. Grazie. È veramente un piacere averti qua e io aspettavo questa chiacchierata da un po' di tempo. In realtà ci siamo incontrati a Senigallia e io voglio mandare subito un saluto agli amici di Senigallia che in questi giorni stanno vivendo un'esperienza decisamente problematica e difficoltosa. Ci siamo visti là, tu hai fatto una conferenza meravigliosa e io nella mia mente ho fatto un collegamento. Ho detto ma questa è la persona di cui ho letto il libro 15 anni fa e ascoltarti è stato veramente importante. È stata un'esperienza che mi ha fatto, peraltro nella consonanza anche di temi che abbiamo trattato nella tua conferenza, nella mia conferenza, il tema dell'indipendenza, della dipendenza psicologica e non solo. È un tema che spesso qui su Daily Cogito abbiamo trattato e quindi mi sono detto ma io voglio parlare con questa persona. Voglio parlare e voglio portare questa chiacchierata anche al mio pubblico. Quindi benvenuto, sono molto felice che tu abbia accettato l'invito. Grazie, sono contento di essere qui. Come stai in questo periodo? Sei impegnatissimo? Stai girando tanto? Com'è la risposta delle persone ai racconti che tu porti? Sì, è un anno e mezzo che sta andando avanti questo ottovolante con qualche pausa di centrifuga. Diciamo che dalla sera in avanti la mia vita è stata investita da un cataclisma. Poi la ripubblicazione del libro ha fatto la sua parte. Ma è tutto incredibilmente bello perché sono esperienze interessanti che mi toccano, mi segnano incontri notevoli come quello con voi oggi. Ebbè qua siamo veramente contenti di poter portare la tua testimonianza, i tuoi racconti e anche poi le tue passioni. Cercheremo di fare una chiacchierata come sempre. Quindi io do il benvenuto a tutti quanti, ciao bella gente, si sono già accorti del nuovo magheggio di regia, il doppio primo piano. Avete visto che è brutto? Ragazzi, Fede ogni tanto lavora. Lo so che sempre, ogni tanto lavora Fede, ogni tanto lavora, fa delle cose. Ciao Silvia, ciao Fiorellino, ciao Francesco. Penso ci saranno degli spunti interessanti da collegare agli argomenti affrontati nei giorni prima sull'essere drogati di piacere. Non voglio paragonare con altre sostanze, via dicendo, però perché abbiamo aperto la stagione con una puntata in cui ho parlato di quanto siamo drogati di piacere. Cioè delle dopamine, quelle immediate, che sono una forma di dipendenza che adesso sta impattando in modo estremamente grave sul nostro modo di relazionarci al mondo. E ragazzi, non è un caso che io abbia chiesto a Fabio, a cui peraltro ringrazio perché io, nel senso, te l'ho chiesto, cos'è, tipo cinque giorni fa, sei giorni fa. Mi ha detto, ascolta Fabio, se vuoi, noi questa settimana avremmo la possibilità. E tu mi hai detto, aspetta che incastro. Io pensavo, no ma mi manderà a fanculo perché in fin dei colpi mi dirà, ma guarda c'è, nel senso, il prossimo mese. E invece sono rimasto veramente sorpreso, quindi ti ringrazio della disponibilità. E quindi non è un caso, cioè nel senso, parleremo di tematiche che in qualche modo sono già collegate. Se vuoi spendere due parole, semplicemente perché magari ci sono persone online che non conoscono chi tu sia, qual è il tuo lavoro. Quindi com'è che ti presenteresti? Gli alzi un po' il microfono. No, 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 soprattutto come posizione, se è possibile. Ah sì, un po' più alto, guarda. Perfetto, fantastico, grazie mille, sai. Ecco, benissimo. Così va bene? Perfetto, perfetto. Come ti presenteresti alle persone, a chi non ha mai conosciuto il tuo lavoro, quello che fai? Bella domanda. Non so come presentarmi a me stesso, quindi figurati agli altri. Adesso, al di là delle cose che non sono battute, ma la sostanziale realtà della mia ricerca di me, ecco, che nasce dall'adolescenza e prosegue e continuerà fino all'ultimo dei miei giorni. Ma sono, come dire, un ex tossico, perché io ci tengo a dire questo. Certo. Che ha avuto questa esperienza molto radicale di tossicomania. Poi sono approdato nell'83 nella comunità di San Patrignano. Sono stato in due tranche dieci anni per uscire da questa dipendenza. Dopodiché sono arrivato a Torino per una storia d'amore. E lì ho iniziato a lavorare con Don Luigi Ciotti nel gruppo Abele. E da circa 15 anni mi occupo, sì, 15 anni, dal 2006, di curare la comunicazione pubblica di Don Ciotti, sia per quel che riguarda Libera, cioè l'associazione antimafia, che il gruppo Abele e tutte le attività del sociale. Questo è quello che faccio. Il lavoro, diciamo, ordinario. Accanto a questo, come dicevo, nell'ultimo anno e mezzo sei stato travolto da una storia che, come ti raccontavo prima, io ho letto il tuo libro in tempi non sospetti, come direbbe qualcuno. Ho letto il tuo libro quando era all'università. Io l'ho letto in modo talmente emotivo che non ricordavo neanche il nome dell'autore del libro. Cioè, nel senso, io ho ricollegato Sampa a te, quando poi ci siamo conosciuti. Ed è una storia veramente viscerale, da mille punti di vista. E vorrei partire da questo, a parlare con te. Perché quando si parla di... Tu parli di tossicomania, quindi questo legame morboso a qualcosa da cui dipendiamo. Noi siamo normalmente, moralmente portati a considerare sempre l'altro come il tossico. Il tossico è sempre qualcuno diverso da me. E in realtà poi, a guardare bene la vita umana, le cose non stanno così. Perché quella che tu chiami tossicomania, in realtà è forse la recrudescenza di un comportamento che teniamo tutti dentro di noi. Che è il voler dipendere, quasi a tutti i costi, da cose che stanno esteriormente rispetto a noi. Dal legarci ad aspetti che possono essere relazioni, sostanze, per quanto sia una parola che so che a te non piace particolarmente. Poi magari spendiamo due parole anche in questo senso. Però possiamo dire che siamo tutti dei tossici, in un certo modo, e che poi ovviamente questo prende aspetti diversi nel corso della vita. Assolutamente. Io a questo sono arrivato, ovviamente non teoricamente, ma riflettendo sulla mia esperienza, sul bisogno di capire cosa mi condusse alla tossicomania. E ci sono arrivato in anni relativamente recenti, quindi dopo aver scritto il libro. Sì. E adesso mi sento di dire che la condizione umana è una condizione tossica potenzialmente. Certo. perché noi tutti manchiamo di qualcosa venendo dal mondo. Ci manchiamo di quello che abbiamo provato nella vita prenatale. È una condizione presumo di beatitudine. Idilliaca. Certo. Assolutamente. di totale idilio, di continuità con l'altro, non c'è più, non c'è la divisione tra me e l'altro, che era il greppo materno. E la nascita è un trauma micidiale perché ci strappa da questo, ci porta nel mondo della separazione, della discontinuità, della distanza e poi del tempo. Sì. Che sono le condizioni che connotano l'esistenza umana, che è mancante all'origine. C'è un difetto di fabbricazione, diciamo, Certo, certo. La vita è manchevole. La vita umana è manchevole. È manchevole. Noi cerchiamo nella vita quel paradiso da cui proveniamo, per lo più non sapendo, ignorando che non lo potremo mai trovare sulla Terra. Certo, assolutamente. E questo è quello che rende drammatico ma anche appassionante l'esistenza umana. In alcuni questa ricerca è così forte che porta poi a delle condizioni di totale dipendenza. Io preferisco per la dimania perché c'è un lato dimaniaco e anche in qualche modo divino nella droga come è capitato a me. Certo. Io di fatti quella cosa che direi ai filosofi, abbiamo questa passione comune da un da poco che ci ha formato e ci ha segnato e che continua insomma a bollirci dentro e che ovviamente una parola importante nella filosofia è ontologia. Certo. Io direi che bisognerebbe assieme all'ontologia o magari anche prima parlare di ontopatia. Ontopatia. Perché l'essere umano è ontopatico prima che essere. La condizione comune è ontopatica e quindi è già patologica in sé. Cioè la malattia, l'esistenza è una malattia. Mi viene in mente la malattia mortale di Kierkegaard. Esatto. E quanto è pazzesco? questa è una tematica che a me capita anche di discutere a volte in live però a volte anche in incontri di persona e io mi accorgo che c'è un'intera generazione attualmente che in realtà di cui faccio parte anche io in realtà perché già questa cosa è cominciata penso negli anni 80, 90 cresciuta con l'idea che in realtà le cose vanno sempre bene se vanno male è perché sei inciampato quando in realtà è l'esatto opposto cioè nel senso le cose vanno male e poi inciampi nel bene ti impegni per il bene lo ricerchi però è un inciampo nel senso che è comunque l'eccezione è comunque qualcosa che devi forzarti a costruire qualcosa che devi faticare per costruire e io quando ripeto queste cose anche a persone giovani è incredibile ma lo vivono come un sollievo cioè persone cresciute magari nei primi 14 anni della vita convinte che in realtà guarda la vita di tutti è una figata pazzesca io mi sento una merda e sono io che sono sbagliato in realtà si rendono conto che in realtà siamo tutti nella stessa condizione di sensazione di essere sbagliati è che tutti quanti fingiamo e quando si rendono conto di questa ontopatia mi piace un sacco si svegliano e dicono ah ma cazzo ma allora non sono mica da solo che è una tematica molto presente anche nelle cose che racconti tu il fatto di non sono solo nel disagio che vivo certo perché è un disagio segnato da una condizione comune che è quella della nostra finitudine della nostra finitezza certo io penso che la questione della morte sia la questione delle questioni in occidente cioè la rimozione della morte del nostro limite costitutivo e per un adolescente questo è particolarmente drammatico perché l'adolescenza è l'età in cui tu nasci una seconda volta ti percepisci per la prima volta come individuo il problema è che l'adolescente è una sensazione esaltante quella di rimettersi al mondo da sé assolutamente però questo porta l'adolescente a pensare che l'individuo sia un individuo fine a se stesso che sia un inizio e una fine che comprenda tutto che sia autosufficiente non sa non vuole sapere che la fine invece la spetta fuori da lui assolutamente e che dovrà farci conti con la sua finitezza se tu dovessi fare e ne fai tanta di autoanalisi cioè nel senso il tuo lavoro è basato su un'analisi della tua esperienza come dicevamo il tuo inizio nella discesa in quell'inferno che hai vissuto che è quello della tossicomania secondo te ovviamente con il senno di poi da dov'è che ha avuto inizio perché giustamente tu dici è dalla perdita di quella situazione idilliaca però qual è l'evento scatenante cioè se c'è un evento scatenante un pensiero un'esperienza che ti fa avvicinare a quel tipo di mondo ma sai c'è stato un episodio che io ho raccontato nella docuserie non ho raccontato nel libro e e che è significativo perché il mio incontro con la droga con la tossicomania avvenne in uno dei momenti più esaltanti della mia vita ok e quindi non è che era figlio di un disagio di un momento di euforia di euforia ok assolutamente di uno stato di grazia perché mi ero innamorato di una ragazza avevo perso la testa come sarebbe meglio dire che era bellissima era ambitissima da tutta il mio liceo e lei scelse me ok e e questo per me è stato come dire toccare il cielo con un dito certo e e lei fu la prima fu quella che mi fece la prima inizione di eroina io ho iniziato dall'eroina ecco l'anomalia della mia tossicomania non hai avuto un'entrata graduale no 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 io sono andato dritto come dire alla fine ho iniziato dalla fine da quella a cui si arriva attraverso un percorso di graduale avvicinamento io ho detto voglio la droga vera voglio la droga assoluta dritto al punto dritto alla puntura scusami un po' di black humor in questo caso è dritto alla puntura sì sì che peraltro mi faceva anche inquietudine perché le punture per me erano rievocavano i vaccini che si facevano a scuola da bimbi che avevano colpito sì sì che erano anche dolorosi c'era il medico che ti distraeva dicendo ma cosa fai perché squadra tifi e poi ti faceva questa puntura nel sedere per l'antivaiolosa questi vaccini qua insomma di un tempo quindi a me le siringhe non è che mi piaceva invece da lei mi sarei fatto fare di tutto di tutto è stato il cavallo è veramente il cavallo di Troia che fa entrare qualcosa che non ti aspetti sì sì e poi ci fu questo episodio sempre lo stesso giorno quando io finì a letto con lei cosa che avevo fantasticato per mesi e sotto l'effetto dell'eroina le sue carezze le sue avance le sue sollecitazioni non sortirono effetto non so mi davano anche fastidio addirittura era una sorta di interferenza alla beatitudine completa compiuta sì non mancante di nulla appunto sì che io stavo vivendo sì e da lì quindi si è scatenato e non sei riuscito diciamo così poi o non hai magari non hai anche desiderato com'è stato il primo periodo perché io ti faccio una piccola premessa io se c'è un privilegio nella mia vita è che non ho mai avuto dei vizi cioè nel senso non sono sono mai caduto in un vizio per dire io questa cosa qua devo farla o devo non so perché ripeto ma è una fortuna io mi ritengo molto fortunato per questo quindi quando tu ti sei reso conto di quella beatitudine cos'è che cioè cos'è che ti ha spinto a dire questa cosa qua non la metto in discussione non mi fermo a dire ma la presunzione di poter governare l'esperienza ok di arrivare fino a un certo punto e fermarmi quando oltre non andare oltre quel punto certo laddove quell'esperienza poteva diventare pericolosa perché all'epoca parlo del 1980 era molto noto già che l'eroina era una droga letale potenzialmente letale c'erano molti morti di Verdoggio all'epoca certo e che era una droga che creava dipendenza io pensavo di non essere di non diventare come quelli lì che si vedevano per la strada potrò cavalcare la tigra esatto cavalcare la tigra sì 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 e quindi ovviamente la meravigliosa presunzione dell'adolescente del giovane al minore ero alla fine dell'adolescenza che diceva beh io sono come dire se io sono la salamandra io attraverso il fuoco non mi scotto mi scotto mi scotto sì è una sorta di tracotanza diciamo così sovrastima libris e poi a un certo punto ti sei accorto che quella tracotanza era mal riposta sì alla prima crisi di astinenza quanto presto quanto presto è successo dopo un anno dopo un anno con la prima crisi di astinenza ho capito che mi ero messo nei guai seri ok e lì ho deciso di vabbè di affrontare la cosa da solo che decidere se dovevo mettermi di fronte alla questione e come come l'hai fatto come come l'hai affrontata la questione ma da solo intanto quindi sì ho deciso di che non dovevo non era giusto che io facessi vivere i miei questa vicenda ok loro già sapevano loro già sapevano avevano saputo non avevano immaginato che fosse così grave la questione ok perché quando loro lo seppero non era ancora così grave era relativamente gestibile quando io mi sono reso conto che invece ero diventato un dipendente senza droga stavo male a quel punto ho dovuto come dire decidere cosa fare e ho detto vabbè io adesso me la vedo con me stesso con me stesso ed è stato un lungo vedere ecco perché poi per lungo tempo io ho pensato che fosse ancora possibile rendere compatibile la tossicodipendenza con una vita relativamente normale cioè mi facevo però immaginavo se c'è da leggere un libro che mi piace lo leggo se c'è da vedere un film che mi piace lo leggo mi resi conto cammin facendo che non era più possibile non era possibile perché la droga ti mangia tutto cioè è totalizzante è un despota che prende tutta la tua vita e poi sostanzialmente anche praticamente era impossibile perché voleva dire all'epoca recuperare ogni giorno una quantità tale di denaro per cui ti imparare a rubare cioè diventare un ladro a tempo pieno e con tutto quello che poi questo comportava che comporta che spesso per molte persone questo è anche poi il motivo per cui finiscono appunto magari in carcere dove finiscono per conoscere e entrare come è capitato anche a me sono stato in carcere la prostituzione un'altra esperienza spaventosa che ho dovuto affrontare perché lì il finisce giustifica i mezzi assolutamente assolutamente nel senso è questione di vita o di morte diventa un certo esatto sai io ho fatto un'esperienza ormai sono passati 13 anni ho fatto un'esperienza in cui sono andato nelle carceri a insegnare scrittura creativa quindi ho fatto l'esperienza con carcerati e mi sono accorto di questo mi sono accorto che la cosa che tu hai detto ho deciso di affrontarla da solo non è mai cambiata cioè uno dei veri problemi nell'ambito di queste che sono poi debolezze umane che si traducono in tragedie è il fatto che a un certo punto ci convinciamo che nessuno può aiutarci o che il miglior aiuto che posso darmi è quello di affrontarlo da solo e io credo che sia uno dei problemi più forti perché significa che negli ultimi adesso da quando tu hai cominciato questo percorso quindi sono passati cosa 35 anni circa circa e non è cambiato nulla cioè non è cambiato nulla e io credo che questo sia anche un fallimento un po' dell'informazione intorno a queste tematiche cioè perché oggi una persona che cade nella nella dipendenza da appunto eroina cocaina via dicendo ancora oggi si convince di potercela fare da solo sì oggi forse ancora questa convenzione è ancora più forte e diffusa perché la dipendenza costa di meno in tutti i sensi sì c'è un costo economico che è irrisorio rispetto a quello di un tempo è un costo anche esistenziale che è molto alleggerito la legge di Moore funziona anche con la droga quindi si aumenta la disponibilità si dimezza il costo la droga è una tecnologia quindi la regola vale anche lì io dico che la droga è una merce ormai come tutte le merci obbedisce alle leggi del mercato assolutamente assolutamente reperibilità diffusione prezzo alla portata di tutti in questo mi viene in mente una domanda da porti che com'è che la vedi tu la questione della legalizzazione sai che è una tematica che io ho trattato anche qui perché io ho avuto Marco Cappato varie volte in trasmissione quindi abbiamo ben discusso ovviamente noi ne abbiamo discusso da persone che non hanno mai diciamo così vissuto la persona che ha vissuto questo tipo di esperienza tu come la vedi la questione della legalizzazione ma guarda da due due o tre punti di vista allora beh un argomento che viene cavalcato da alcuni tipo da Roberto Saviano il fatto che la legalizzazione della cannabis sarebbe un colpo delle mafie questa è una cazzata con tutto rispetto sì ok perché le mafie hanno sempre fatto i veri soldi dalle droghe pesanti che creano dipendenza ok ok perché creano come dire una clientela fedele e quindi le droghe leggere la marijuana è una voce di bilancio abbastanza irrisoria sì credo che facciano i soldi effettivamente sì 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 con l'eroina si tratta di oppiace il secondo punto è che la droga è già appunto è una merce quindi è liberalizzata che vuol dire molto di più di legalizzata oggi la legge l'ha detta il mercato non l'ha detta la politica certo il mercato è la potenza più forte lo vediamo adesso anche con la questione del gas dell'elettricità è l'interscambio quindi la droga è una merce è già liberalizzata se tu poni una legalizzazione comunque in quanto deve essere una cosa certificata dalla legge quindi da uno stato devi porre comunque dei limiti alla disponibilità no che anche la legalizzata in termini di come dire di distribuzione di quantità e anche di età non è che poi credo permettere un accesso dell'acquisto di droga ai minorenni ecco il punto è che laddove tu poni un qualsiasi tipo di limite o anagrafico o di quantità di droga disponibile quotidianamente apri un mercato nero che ti dà quello che lo Stato non ti dà questo assolutamente quindi ecco terzo punto è quello che mi sa più a cuore perché per me è quello che riguarda la sostanza del problema io di discorsi su legalizzare proibire li sento da 40 anni siamo sempre lì siamo sempre lì la legge non è l'unità di misura per comprendere un fenomeno così importante così profondo come quello delle droghe certo io dico in maniera un po' provocatoria ma non è provocatoria quello che penso che la droga non andrebbe legalizzata né proibita andrebbe ritualizzata interessante questo cosa intendi vuol dire che la droga sono come dire tanto che vengono usate da millenni dall'umanità perché sono sostanze naturali fondamentalmente l'oppio la coca i funghi la psilocibina e rispondono a quel bisogno di tornare al paradiso perduto che l'essere umano porta dalla nascita e porterà per sempre allora bisognerebbe capire che le droghe possono essere un luogo in cui si crea una comunità difatti come dire ci sono delle tribù cerno almeno per quanto mi risulta ne parlare tu sì no ma ci sono ancora ecco nel Messico meridionale che usano il peyote o altre radici per creare un contatto col divino certo certo ecco il contatto col divino per me nient'altro che il contatto con la nostra sfera prenatale certo certo se sì questo è molto chiaro questo è molto chiaro ecco se si spiegasse che le droghe servono a questo che però il paradiso sulla terra non si trova quindi prendiamoli tutti insieme sapendo che però questa nostalgia non avrà come dire una risposta sarà sempre un surrogato sarà sempre un surrogato allora a quel punto diventano possono diventare paradossalmente ma neanche tanto paradossalmente un veicolo di consapevolezza di quello che siamo certamente Aldous Huxley aveva accolto questo sono molto d'accordo cioè l'idea che esista un modo per spegnere quella parte razionale della nostra esistenza che è quella che distingue e discerne per tornare a quella che diciamo così Schopenhauer chiamava la volontà quindi questo flusso inesausto di vita che però non potremmo mai raggiungere perché poi siamo biologicamente limitati siamo gettati nel mondo siamo separati da qualcosa esatto e questo questo credo però il far il confronto col proprio limite è esattamente quello che ci porta a una consapevolezza di noi stessi sì cioè saperci saperci mortali e sapere che noi amiamo la vita proprio perché sappiamo che finisce certamente certamente e questo che la rende appassionante se la vita fosse infinita sarebbe un mortorio mamma mia una cosa che chiamerebbe il suicidio a gran voce sì sono d'accordo sono discorsi che si sentono molto spesso in realtà l'analito all'immortalità c'è da sempre si è scritto montagne di romanzi durante la serata aposofia ho citato Voldemort è uno degli archetipi contemporanei dell'analito all'immortalità mi hai fatto venire in mente io non so se tu sei avvezzo ai videogiochi purtroppo no sono un'altra generazione sappi che c'è c'è un videogioco che ha avuto un grandissimo successo in quest'ultimo anno e che parla esattamente di questo si chiama Elden Ring il gioco ed è ora non sto qua perché è una storia complessissima però il principio è che il mondo è il risultato di una guerra fra divinità una divinità è quella che viene chiamata il golden order cioè la divinità che ti fornisce un ordine fatto di separazione di discernimento di principium individuazioni se quindi del fatto che tu sei tu che questo tavolo è questo tavolo e della razionalità come strumento per capire la realtà poi c'è un'altra divinità che è la frenzied flame cioè la fiamma della follia la quale denunciando questa traccotanza del suo rivale dice no in realtà tutto deve tornare all'uno l'uno plotiniano potremmo dire tutto deve il discernimento è una menzogna la razionalità è una menzogna e quindi tutto deve tornare a quell'iniziale primario Eden che era l'uno indistinto ed è una storia che appunto racconta in modi molto molto anche epici questo scontro in effetti se ci pensi è quello lo scontro di cui parli tu lo scontro fra da un lato la ragione analitica analitica che ti permette di riconoscere le cose di crearti immagini e dall'altro la sensazione che poi effettivamente sia tutto connesso e che questa analiticità sia una sorta di menzogna è un modo di controllare è uno strumento di potere assolutamente che però si ritorce contro chi lo se è reciso dalla sua radice emotiva esattamente credo che sia necessario dare un ruolo alle cose cioè nel senso entrambi sono fondamentali assolutamente quando si scambiano l'una con l'altra fanno dei danni incredibili appollo e dionis o per nici erano questi due principi esattamente esattamente poi tu nella tua esperienza hai fatto quindi l'esperienza perché io mi ricordo quello che scrivi tu sei partito dall'eroina poi tu dai una definizione anche particolare tu fai una differenziazione fra eroina e cocaina tu dici che l'eroina ti toglie l'anima no quella è la cocaina la cocaina ti toglie l'anima l'eroina ti rende schiavo ti rende schiavo ti rende dipendente questa mi piacerebbe sentire l'elaborazione di questo perché mi sembra una differenza che per te fa tutta la differenza del mondo sì perché allora io faccio queste differenze sulla base ovviamente dell'esperienza ho provato entrambe le droghe sono diventato dipendente da entrambe le droghe però contemporaneamente sì ho iniziato prima con l'eroina poi ho incontrato la cocaina e ho detto questa è la droga che cercavo ok l'eroina non mi interessa più ah ti hai perso interesse quindi per l'eroina però ho capito che senza la cocaina da sola non riuscivo a avevo immaginato avevo capito che era ingovernabile da sola aveva bisogno del suo contrappeso ok allora di fatti per me il massimo era averli insieme quello che noi chiamavamo lo speedball ok cioè iniettarci eroina e cocaina mischiate ok allora la differenza tra queste due droghe che io percepivo in maniera netta evidente mentre iniettiavo la cocaina era molto più potente il primo effetto la cocaina sovrasta l'eroina come effetto però se te li inietti insieme l'eroina ti salva dal down da cocaina che è il momento devastante in cui tu passi da una estasi paradisiaca a un inferno atroce di angoscia di smarrimento ok riflettendo sulla funzione sull'effetto che avevano queste due droghe un giorno ho capito che l'eroina mi riportava alla condizione prenatale era una droga regressiva ok che mi riportava al grebo materno alle situazioni di beatitudine di invulnerabilità di protezione di distacco che io ho provato credo da nascituro la cocaina fa esattamente il contrario la cocaina mi ha fatto ogni volta nascere uscire dal grembo l'euforia ma invece appunto l'euforia perché io cosa trovavo la cocaina cosa ti fa trovare una volta uscito non il mondo ti fa trovare il giardino dell'Eden ti getta nel paradiso ok e questo è molto più entusiasmante mamma mia soltanto che il paradiso dopo pochi minuti toglie la maschera e si rivela per quel che è un inferno è perché questo poi effettivamente è per questo che dico che ti ruba l'anima alla fine tu non sai più chi sei questo è un meccanismo che in realtà per tornare a quello che diciamo all'inizio noi viviamo ogni giorno cioè noi ovviamente in una forma molto più molto meno potente di questa però è il dominio della dopamina cioè quando noi siamo di fronte al nostro smartphone e utilizziamo tiktok per riempirci di contenuti e poi c'è il down cioè tu perché ti riempi di questi contenuti in fin dei conti perché ti sembra che ti completino cioè noi siamo in cerca di quella completezza in tutto quanto anche nei comportamenti più quotidiani nelle relazioni con gli altri cerchiamo sempre di completarci e tu hai l'illusione della completezza a cui poi però segue lo smarrimento lo smarrimento sì sì perché appunto tu parlavi di piacere no? in realtà noi cerchiamo il piacere ma in realtà noi cerchiamo molto di più che il piacere il tossico non cerca il piacere cerca la beatitudine la beatitudine assolutamente il piacere è qualcosa che sul momento ti soccorre sì ti 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 fa star bene e se non lo affianchi a qualcosa che sia una consapevolezza cioè se non ti rendi conto che quel piacere non è la felicità cioè la scarica di dopamina del mi piace su facebook o del videogioco di nuova generazione o del che cavolo ne so della scalata della montagna via dicendo sono tutte cose che sono a te esteriori ok allora bene che ci siano siamo creature biologiche abbiamo bisogno della dopamina però se tu confondi quel meccanismo con la felicità duratura è micidiale sveglierai molto molto male assolutamente e questa è credo che sia uno e poi cadere in una dipendenza una dipendenza che poi si può dipendere pensa a quante cose possiamo dipendere possiamo dipendere da una relazione ci sono relazioni che diventano tossiche peraltro si chiamano relazioni tossiche perché è una dipendenza in cui tu pensi che la presenza dell'altra persona a fin dei conti sia tutto ciò di cui hai bisogno e quando quella presenza verrà meno perché poi verrà meno per qualche motivo tu li troverai completamente sperduto c'è quella pagina beh io ne ho parlato a Poposofia però la cito anche qua che è quella pagina di Frankl nel Lager che dice io non so se mia moglie lui sta spaccando le rocce ok è lì da anni non sa nulla di sua moglie dice io non so se mia moglie sia viva sia morta non so se mi ricorda però non è la sua presenza darmi la felicità è il fatto che io l'amo il fatto di sapere che io per lei provo questo sentimento è ciò che mi riempie mi dà motivazione e quello lì è se io devo trovare una definizione di felicità paradossalmente perché può essere felice persino in un Lager che dice magari felice no però può essere può essere pieno sì ed è una cosa che noi spesso dimentichiamo questa difatti tu citi appunto il tuo intervento molto bello a Pop Sofia ad Ancona io in quell'occasione parlai di educazione al desiderio sì cioè la capacità di amare il desiderio in quanto tale in quanto tale come segno della nostra essere in vita del nostro esserci ah sì sganciandolo dall'ambizione di possesso assolutamente dall'oggetto a cui si rivolge sapendo che quell'oggetto non l'avrà mai o quando l'avrà sarà deludente inevitabilmente certo quindi amare il desiderio in quanto tale e l'educazione al desiderio per me è una grande scuola di consapevolezza di saggezza mi fa venire in mente Nietzsche con la volontà di potenza che spesso è stata fraintesa è stata fraintesa la volontà di potenza io domino la volontà di potenza è io io amo amo il fatto di volere amo il fatto di slanciarmi amo il fatto di avere questa possibilità sentirsi vivi vivo l'estasi di arrivare a qualcosa di tendere a qualcosa è questo sentirsi vivi e quando tu senti questa cosa riesci magari anche in parte perché poi non ci riusciamo del tutto però riesci in parte a slegarti dalle cose da cui dipendi perché le cose da cui dipendi diventano secondarie e credo che questo sia importantissimo cioè quello ce l'hai perché esisti capito nessuno può dartela quella cosa là ed è molto molto potente no e poi è una cosa su cui evidentemente l'essere umano certe culture certe sapienze certe filosofie riflettono da millenni io penso a questa frase della Bhagavad Gita un testo sapienzale indiano importantissimo il canto dei beati in cui il dio dice al guerriero staccati dai frutti dell'atto cioè non fai qualcosa per l'esito per arrivare come dire a ottenere il risultato fallo perché ti rende vivo assolutamente e questo mette a terra il principio del fare occidentale che è un principio utilitaristico io faccio qualcosa per arrivare a quello se no non la faccio ci deve essere un vantaggio un profitto ecco questo è veramente importante perché di nuovo torniamo al punto di quel dualismo di cui parlavamo molto spesso chi non so cita questo aspetto del fare per fare non per arrivare pensa che questo sia l'unica cosa in realtà poi è anche importante è importante che nella relazione ci sia lo scambio reciproco cioè sono importanti però bisogna dare il giusto ruolo capito l'uno senza l'altro rischia di deviarti in modo terrificante è una faticaccia incredibile è una faticaccia perché da un lato tu hai il pensiero suo dente del dire beh ma io il mio valore sta nel fatto che mi slancio in avanti poi chi se ne frega del fatto che magari slanciandomi in avanti faccio del male a qualcuno anche perché capita anche quello il mio desiderio fa anche del male agli altri e quindi poi in realtà devi avere anche la consapevolezza di dire devo misurarmi in quello che faccio perché poi c'è anche l'altro ed è questo equilibrio che è un casino incredibile questo te lo dà il dialogo con se stessi che è un dialogo io credo appunto la possibilità di relazionarci in maniera autentica e anche responsabile con l'altro attorno a noi dipende fondamentalmente della capacità di ascoltare di accogliere e di accettare anche l'altro dentro di noi per me è stato come dire decisivo l'incontro con la frase di Rimbaud a 17 anni quando io mi chiedevo ma io chi sono e lui mi dice tu sei un altro nella lettera al vigente sei sempre l'altro per qualcuno e anche per te stesso però dovrei cercarti per tutta la vita e infatti che la conoscenza di sé è quella che i greci hanno messo come nella base di tutto della filosofia che poi conoscersi significa anche lì troppo spesso pensando che le cose debbano essere sempre piacevoli tu pensi che conoscere te stesso significa sono bellissimo e in realtà poi nella conoscenza di te scopri un sacco di cose che magari dici ma no ma non posso essere così e poi magari devi semplicemente fare pace col fatto che tu sei anche cose che magari inizialmente non ti piacciono cioè conoscersi è un atto rischioso è un atto rischioso in esplorazione però è un atto meraviglioso perché è un atto avventuroso assolutamente è l'imprevedibilità dell'esistenza che si si manifesta attraverso di te assolutamente e poi te ne devi fregare questo è un altro discorso importante ma abbiamo già fatto qualche parola è perché tu non vuoi che certe parti di te emergano perché hai paura del giudizio degli altri la tua immagine pubblica diventa più importante della tua crescita interiore questo è micidiale sia per le singole persone ma anche per le associazioni addirittura per i paesi il rapporto che un paese ha con la propria storia con la propria memoria assolutamente nascondere certi vergogni del passato guarda il rapporto che abbiamo col fascismo qua in Italia perfetto ogni volta che si sempre mi le distingo e io sto guarda in questo periodo sto ascoltando che io non l'avevo mai letto però la trilogia di Scurati su M il figlio del secolo e devo dire che è una delle prime volte in cui sento veramente raccontato quell'aspetto che è un po' la nostra ombra se vogliamo mettere con cui non abbiamo mai fatti i conti cioè nel senso io vorrei ricordare come sempre è una cosa che ho già detto in passato però siamo l'unico paese che ha vissuto una dittatura e non ha fatto un processo alla dittatura in nessun modo anche l'ursi in realtà non l'ha fatto però ha vissuto comunque un disfaccimento che poi ha comunque fatto fare i conti in un certo modo noi invece siamo diventati da fascisti e ad antifascisti da un giorno all'altro cioè prefetti che il giorno prima erano manganellatori rimasti lì ed è una cosa è molto emblematico quindi sono molto d'accordo alcuni aspetti psicologici degli individui che stiamo descrivendo qua poi incredibilmente prendono delle forme anche collettive che sono sorprendenti se ci pensi perché non ti aspetteresti usando la testa dici ma no ma non è possibile è un romanzo e invece no poi è la realtà è la realtà sì 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 a te appare nella tua esperienza che hai fatto anche a San Patrignano l'immagine pubblica che davi di te agli altri agli altri utenti per te contava cioè aveva un'importanza il modo con cui gli altri ti giudicavano ti guardavano aveva un ruolo questo aspetto con gli altri ospiti gli altri ospiti no no tra di noi non ci potevamo raccontare ci conoscevamo troppo bene e non potevamo metterci delle maschere la cosa meravigliosa della comunità quando è vissuta così è quella che tu i rapporti che hai dentro possono essere soltanto rapporti smascherati ok il problema per me fu quando io dove invece mi dovetti rappresentare all'esterno come nel mio ruolo di addetto stampa quando è che hai cominciato a fare quella nell'ultimo io sono tornato a Sampa nel 91 ho chiesto subito a Vincenzo Muccioli di lavorare con lui e io nel giro di qualche mese sono diventato il suo diciamo addetto stampa ok e quindi negli ultimi tre anni dal 92 al 95 ho svolto quella che sono stati gli anni più difficili della comunità certo perché venne fuori l'omicidio commesso nell'89 sì 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 deve essere stato un periodo abbastanza sì 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 sconquassante quello sì 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 decisamente prima di passare a approfondire un po' l'esperienza di Sampa vorrei dire ai nostri spettatori che adesso facciamo una piccola pausa perché se voi allora il libro di Fabio Sampa madre amorosa e crudele non mi veniva amorosa mi veniva lacrimosa ho detto no amorosa e crudele voi potete leggerlo ovviamente trovate il link in descrizione però potete anche se volete ascoltarlo grazie al nostro sponsor Storytel i libri sono cose vive ti parlano ti rimproverano ti danno ottimi consigli e per me i libri hanno sempre avuto una voce ma adesso ce l'hanno per davvero letteralmente grazie agli audiolibri per esempio 1984 e la distopia del grande fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana e poi sapevi che puoi ascoltare la voce del capitano Akab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini e poi hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum su Storytel puoi perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen e poi ci sono i miei a mente libera e cose serie fra filosofia formazione e cultura pop e poi adesso puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie letto con la mia voce come se non la sentissi già abbastanza clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita e poi innamorati della voce dei libri e se ne hai coraggio prova pure a parlarci ma hai visto Fabio ma che regista c'ho su Delicogito che sbaglia i tagli fa casini cosa devo fare mi dici cos'è che devo fare conosci un regista bravo per caso hai lavorato con Netflix non puoi dirmi che non conosci devo dire che loro scelgono proprio il meglio sul mercato infatti dammi un numero dammi un numero lui è bravissimo però io sono gratis non sei gratis smetti di mentire smetti di mentire in chat prima si parlava del tuo stile ok allora vorrei cambiare un attimo un attimo come dicono i giovani shiftare l'argomento ok tu hai avuto ovviamente dei modelli durante la tua vita ok uno dei modelli era Bowie Bowie David Bowie perfetto che è stato un modello per intera generazione allora vorrei partire da questa perché tu hai incontrato Bowie durante l'adolescenza giusto prima dell'adolescenza prima dell'adolescenza all'inizio della pubertà diciamo allora a 13 anni provo a lanciare una provocazione legata a un filosofo francese che era Gilles Deleuze il quale sicuramente insomma avrai letto e conosci il quale a un certo punto lui fa un bilancio degli anni 60 c'è un'intervista che è la Bessé d'Air a un certo punto cerca di fare un bilancio degli anni 60 lui è stato uno dei promotori del pensiero libero anche dell'uso delle sostanze a fini di comprensione alle sue lezioni lui diceva tranquillamente c'erano studenti che si facevano dall'eroina alla come si diceva lui non sarebbe stati molto attenti sarebbero addormentati ma in realtà facevano beh ma c'erano persone che avevano della marijuana qualsiasi cosa ok ed erano un po' erano un po' i figli di quel pensiero molto libero e Deleuze dice io mi pento moltissimo perché tantissimi sono persi in questa cosa qua allora la domanda che vorrei farti visto che comunque la grande ondata della tossicodipendenza e tossicomania è stata soprattutto negli anni 70 direi è stato l'impatto devastante che è quello che anche tu hai vissuto quanto secondo te la cultura pop questa cultura del pensiero libero dell'apertura dell'emancipazione in ogni senso ha giocato un ruolo nel trascinare tante persone in un certo tipo di mondo non so se è un collegamento se ti è mai capitato di fare questo tipo di collegamento ovviamente non parlo di te David Bowie capiamoci parlo di una cosa un po' più ampia però è è una cosa che mi sono sempre chiesto come la vedi tu? ma sai allora io non l'ho vissuta nel senso che gli anni 60 io ero un bambino quindi non non posso testimoniare ed erano comunque anni in cui si si parlava e si esortava anche in qualche misura alle droghe psichedeliche certo fondamentalmente no? dall'America di Timothy Liri Yellow Submarine esatto tutti Loose in the sky with diamonds Castaneda Castaneda ecco c'era tutto un clima appunto le porte della percezione da cui Jim Morrison presa il dors e per me c'era tutto come dire attorno a questo a questa clima anche così la la fascinazione per l'Oriente per il viaggio a Kathmandu erano cose personalmente che riguardavano un'altra generazione che non era la mia quella dei fratelli maggiori certo e ha avuto io credo non un grande impatto poi perché chi ha provato gli acidi non sempre è arrivato all'eroina anche perché invece sull'eroina c'era io mi ricordo nella Milano nella seconda metà dei anni 70 le come dire le associazioni della sinistra radicale erano molto dure molto intransigenti inquisitorie contro i sia gli spacciatori ma anche contro i consumatori di eroina che venivano giudicati dei traditori certo gente che aveva venduto l'anima al capitalismo al capitale che aveva tradito la causa su youtube tra l'altro c'è un bellissimo filmato del Parco Lambro del 76 evo 14 anni mi senti parlare di un festival pop che si tenne a Milano al Parco Lambro in cui si vede ad un certo punto un vero proprio processo pubblico a un po' un ragazzo smarrito fatto di eroina che viene preso a come dire accusato di essere appunto uno che non è non è un compagno vero certo assoluto compagno del capitalismo esatto quindi non so quanto sia come dire plausibile un legame tra la cultura di quel genere del libertarismo con la con la droga pesante la droga urbana della fine del 70 che io ho vissuto che poi ho trovato appunto non in Castaneda ma ho trovato in William Barros in Junkie insomma Beauty Generation pasta nudo esatto quello è stato anche su di me io devo dire io sono stato consumatore io non ho mai provato oppiacei quindi io eroina la cocaina non ho mai toccato io ho fatto un uso invece di psichedelici durante l'università ne ho perché ero affascinato da gli Huxley da William Barros Barros nel pasto nudo racconta gli effetti dell'LSD e io ero affascinatissimo da questa cosa perché poi scrivevo scrivo poesie quindi diciamo ma io voglio vedere che poesie vengono fuori quando veniva fuori io delle merde cioè nel senso roba illegibile ok io ho provato con la cocaina a scrivere versi poi ho detto ma che è sta roba no cioè nel senso una cosa e mi sono convinto che in realtà tutta la Beauty Generation avesse creato questa mitologia in realtà quello che scrivevano era sotto un effetto molto molto blando e molto molto tardo di eventuali sostanze perché credo che veramente sia difficile poi a un certo punto ho perso semplicemente interesse come dicevo mi sento fortunato perché non ho mai preso il vizio di nulla però dall'altra parte mi rendo conto che il fascino culturale che c'è stato e Dello S lo dice chiaramente il fascino culturale come se questi comportamenti potessero liberarci da una schiavitù la schiavitù dell'ordinarietà della routine ha avuto un impatto e io lo vedo lo vedo oggi più che altro perché quando abbiamo parlato delle dipendenze contemporanee che sono dipendenze diverse sono molto più psicologiche che fisiche la dipendenza dal feed la dipendenza da da tutto quello che ci circonda siamo bombardati in realtà è molto promosso da un certo tipo di visione del mondo che è la visione appunto dello spettacolo di questa vita magnificata e in realtà è incredibile perché sembra quasi che Hollywood sia diventata la sostanza di cui noi ci nutriamo da cui siamo diventati dipendenti sì diciamo che in quest'epoca quella funzione come dire che negli anni 60 e 70 hanno svolto le utopie che potevano essere appunto le utopie libertarie dei festival pop ma anche le utopie politiche il comunismo come luogo paradiso in terra eccetera oggi questa cosa è una funzione assolta dal mercato che il paradiso te lo dà ogni giorno quella cosa non micidiale ed è disponibile esatto è accessibile esatto non è riuscito a darci la sostanza che perdura ma tantissime piccole sostanze esatto che in qualche modo ti danno questa continuità e io credo che questa cosa forse l'ho anche detto a Senigallia l'abbia capita in maniera preveggente Pasolini nella sua critica all'inizio degli anni 70 si parla appunto prima che venisse ucciso quando parlava del consumismo come di un pericolo ancora più peggiore del fascismo perché era una dittatura che come dire agiva con il consenso dei sudditi assolutamente che non si riconoscono tali agisce per seduzione non per per oppressione per imposizione guarda questa mi verrebbe da dire che non è neanche una cosa così moderna cioè nel senso in realtà Seneca ne parla due mille anni fa Seneca mette in guardia l'ucilio e gli fa guarda che le seduzioni di cui ti circondi sono la peggior cosa che puoi fare poi è evidente non c'erano i social i tempi di sono la differenza è che lì c'erano poche persone esposte a certi stimoli perché la gran parte doveva coltivare la terra e ciao adesso invece siamo tutti esposti a questa cosa quindi è è una massificazione di una tendenza che però perché in fin dei conti noi cerchiamo è da sempre cioè quella cosa che tu descrivi ok il fatto di voler tornare nel grembo materno voler ritornare a quello stato quella io non credo che sia mai cambiata da 120 mila anni a questa parte cioè nel senso è una cosa che ci portiamo dietro e che non è mai cambiata cambia quello che c'è intorno quello che c'è intorno c'è chi appunto l'ha tematizzata io credo che noi siamo tutti figli bene o male del romanticismo del fine settecento che sono stati i primi romantici tedeschi penso a Kleist poi a Hölderlin ad aver come dire detto in parole in poesia e poi in filosofia anche in maniera più indiretta ma l'assoluto come dire è quello che ci manca e lì penso a Michel Steter quando dice io conosco l'assoluto come l'insonne conosce il sonno frase meravigliosa è fantastico sì sì è vero noi siamo fatti di questa mancanza e questa ce la porteremo in idea perché è la condizione umana questa dobbiamo farci conti certo ma la grandezza dell'essere umano viene anche dall'essere consapevole di questo limite invalicabile di farci qualcosa sì sì assolutamente assolutamente anche in base alla tua esperienza esiste una via d'uscita che sia percorribile senza dover passare per le forche caudine in cui tu sei passato sì no per carità se non andare a parlare nelle scuole cioè cos'è che racconti ai ragazzi quando vai nelle scuole cos'è che diresti a racconto che quello che a me mi ha salvato la vita è stato il fatto che ho incontrato la mia passione fondamentale prima di incontrare l'eroina cioè io a 16 anni come te ho iniziato a scrivere a 15 forse a scrivere poesie perché pensavo fosse più semplice che scrivere più immediato a fare dei plagi vergognosi di Ginsberg di Howl di Ginsberg quanto ti capisco però poi il scrivere voleva dire anche leggere voleva dire farsi delle domande certo entrare in contatto appunto con questo altro sé che abbiamo dentro e che è così inafferrabile così cangiante così variabile e io ho capito che quella era la mia strada perché io volevo capire chi ero a 15 anni e ho capito che la scrittura era lo strumento che più potevo maneggiare con relativa abilità per capire mettermi di fronte a me stesso certo quindi quella è stata la mia passione che mi ha che ho coltivato in maniera sgangherata come si appunto si coltiva a 15-16 anni prima dell'incontro con l'eroina che avvenne a 18 anni appena compiuti avevo compiuti da 10 giorni da 20 giorni 18 anni il 2 aprile 1980 ho incontrato l'eroina però quella passione è rimasta dentro è rimasta sotto le bracci e è continuata a bruciare e quando poi mi sono trovato in comunità e mi sono trovato disarmato perché privo delle mie sostanze dei miei scudi da supereroe che erano le ruine della cocaina mi sono trovato nudo quella sostanza quella passione è tornata a galla ed è stata lei che mi ha rivolto le domande che io prima come dire rivolgevo a lei quando ero giovane certo e mi ha chiesto ma tu quando ci frequentavi eri serio o la tua era soltanto una posa giovanile per fare colpo sulle ragazze e io ho detto no no ho la mia passione ho detto guarda io ero serio io soffrivo veramente certo certo ero tormentato e loro mi hanno detto allora continua è quella quella che mi ha portato fuori quindi non è necessario passare dalle forche caudine bisogna appunto nel momento in cui noi ci mettiamo al mondo per la seconda volta e da noi stessi nell'adolescenza ecco capire qual è la nostra ragione d'essere in questo mondo la cosa facendo la quale noi ci sentiamo pienamente vivi senza bisogno di additivi chimici poi uno può provare tutte le droghe tutte le esperienze non viene deviato dalla sua passione è la sua passione che continua a essere come dire a dargli la rotta c'è un un gran numero di persone molto giovani che tipo io spesso racconto io ho trovato la mia passione per me è stato soprattutto il teatro io l'ho trovato il teatro l'ho trovato al liceo per me è stata una scoperta incredibile mi ritengo fortunatissimo per averlo scoperto a 17 anni tante persone a 17 anni non hanno la più pallida idea a 19 anni magari hanno provato magari non hanno mai provato nulla perché non sono state abituate a pensare guarda che tu hai gli strumenti in mano per sperimentare per vivere quindi sono persone magari anche a 21 22 anni che ti dicono ma io io non so qual è la mia passione non ho idea sai cosa dimmi io credo che una parola che oggi vada ripensata e rivalutata viene demonizzata da stupidità psicologiche analisi è la parola solitudine l'adolescenza è l'incontro con la propria solitudine e le domande radicali te le puoi porre soltanto quando sei davvero solo con te stesso e non sei mai solo se sei connesso vuol dire anche quindi io credo che la solitudine dovrebbe essere addirittura una materia di apprendimento diventare imparare la solitudine capire quanto è importante il dialogo solitario meditativo con se stessi perché lì veramente tu distingui quello che è essenziale da quello che è superfluo per te è Pascal che diceva ogni guaio dell'essere umano deriva dal fatto che non sappiamo stare da soli in silenzio in una stanza esatto quella roba lì è veramente cioè è proprio è proprio una frase puntuale perché perché è proprio così i tuoi problemi più grossi derivano dal fatto che non sopporti la tua presenza quando sei da solo sì fuggi e a quel punto tu utilizzi qualsiasi cosa per fuggire quindi non hai relazioni perché sei interessato agli altri hai relazioni perché ti portano lontano esentano da te stesso non leggi un libro perché vuoi imparare leggi un libro perché c'è una voce che sostituisce la tua e allo stesso modo finisci per provare una sostanza non perché magari vuoi scoprire cos'è ma perché quella cosa ti tira via quella voce che è la tua solitudine sì e allora qualsiasi cosa farai sarà una scelta sbagliata e rischi di diventare di vivere una vita prestito una vita fittizia una vita che non è la tua assolutamente che è la cosa peggiore la perdita di libertà più grande che un essere umano può patire porca miseria c'è una frase che tu mi sembra che tu l'abbia scritta anche nel libro l'ho letta anche recentemente in un'intervista dici io non amo chiamarle sostanze perché la droga è un mondo sì e questa frase mi fa venire in mente un romanzo che io adoro che è le tre stimate di Palmer Eldridge di Philip K. Dick non so se ti è mai capitato di leggerlo no Dick non l'ho ancora letto ma un romanzo di fantascienza che sicuramente se leggerai ti farà trovare un sacco di assonanze con i racconti che fai e ovviamente nella trama diciamo l'idea centrale è che la nostra realtà è sempre costruita in base a qualcosa che ha sostituito la realtà precedente nel romanzo c'è questo c'è questa metafora a un certo punto Dick c'è un personaggio che fa questo racconto dice c'è questa famiglia che fa un grande pranzo e questa famiglia ha un gatto e la famiglia prepara una bistecca una bellissima bistecca da due chili che prepara lì sul tavolo della cucina e il gatto guarda la bistecca e a un certo punto mentre la famiglia si distrae poi torna in cucina e la bistecca non c'è più e c'è solo il gatto di fianco e quindi dicono ma è evidentemente il gatto prendono il gatto lo pesano proviamo a vedere se c'ha la bistecca dentro e il gatto pesa due chili e dicono vedete il gatto ha preso la bistecca e tutti si chiedono e il gatto dov'è finito ed è un racconto cioè ovviamente una piccola barzelletta letteraria che ti dice tu se utilizzi qualcosa in modo sbagliato sostituirà la tua realtà e quindi sono molto d'accordo quando dici non sono sostanze cioè non sono delle cose sono dei mondi tu finisci per traslarti in un mondo diverso sei il gatto tu nel tuo racconto che hai fatto sei esattamente come il gatto se avessimo pesato te in quel periodo non ci saresti stato tu ci sarebbe stato soltanto la bistecca ovvero la droga e questo capita spesso nella nostra vita e non ce ne accorgiamo finiamo per introiettare in noi cose che magari abbiamo scelto per i motivi sbagliati e che si sostituiscono a noi sì ed è ed è una cosa di cui non ci accorgiamo finché non ce lo dice qualcuno di esterno e la domanda che volevo farti dopo tutta questa lunga premessa è c'è stato qualcuno di esterno che è stato veramente fondamentale per farti dire cioè è vero io sono il gatto non so più dove sono io e beh sì questo è stato Vincenzo Murcioli che però ha capito e questo è stato il suo coraggio devo dire anche la sua umiltà che l'unica persona che poteva dire a me in maniera credibile guarda che tu sei diventato il gatto potevo essere soltanto io medesimo e quindi lui quando mi mi fece rinchiudere in questo scabuzzino per 18 giorni lo fece perché voleva mettermi nella condizione di incontrarmi e di dirmi e mo e mo come si vive come si vive e quella è stata l'esperienza che ha cambiato la mia vita perché è stata l'esperienza della consapevolezza profonda del mio essere diventato un tossicomane quindi di aver completamente ceduto la mia esistenza a un mondo a un mondo non una sostanza è diventato un clandestino in un mondo che non era il tuo sì questa cosa guarda io ci penso tantissimo perché quando ho in qualche modo capito questo concetto ho cercato sempre di crearmi dei sistemi di feedback che mi permettano di dirmi sempre ma sono il gatto cioè cos'è che ha preso il posto di me e che è una domanda che sembra quasi triviale perché dici vabbè ma non è che poi portela ogni giorno eppure è fondamentale perché può prendere il posto di te di nuovo la relazione con una persona da cui finisci per dipendere sì sì in maniera molto meno drammatica un lavoro un lavoro che ti inghiotte ti inghiotte e finisci in un vortice da cui non riesci più a guardarti dall'esterno assolutamente è un pericolo immane e io credo che se uno riesce a padroneggiare quella trappola e vederla allora anche i pericoli che sono molto più pesanti come quello della tossicodipendenza vedi dicendo diventano dei pericoli più visibili ecco riesci ad accorgertene meglio poi comunque magari ci cadi nelle cose perché ripeto la vita è molto imprevedibile però quella cosa lì per me è diventata importantissima sì sì io mi ricordo quando ero ragazzino sentivo appunto parlare spesso nei discorsi anche al ginnasio quando ancora cercavo di orientarmi nel mondo una parola molto in voga molto in voga alla metà del 70 era la parola alienazione perché i testi marxisti parlavano appunto dell'alienazione del capitalismo eccetera eccetera ecco io l'ho provata veramente nel senso profondo e radicale con la droga sei stato alieno a te stesso esatto sì sì quella è un'esperienza che che è importante che racconti perché mi rendo conto che spesso anche nei confronti queste cose qua viviamo una fascinazione un po' pop non so di nuovo io sono cresciuto con paura dell'ira a las vegas di Terry Gilliam non so se tu lo sai ma quel film venne censurato perché tantissimi erano convinti che fosse uno spot alla droga quando in realtà è il contrario cioè che il film ti mostra dici Terry Gilliam che poi per me è un grande genio del nostro tempo ti sta dicendo guarda cosa può capitare nella tua vita guarda in cosa puoi trasformarti non era un inno gioioso dai ragazzi nel senso prossima dose non era quello e quindi mi rendo conto che c'è una superficialità incredibile con cui ci approcciamo a certi temi quindi è veramente importante che tu che tu abbia il coraggio di raccontare queste cose perché cavolo non so quanto tu viva facilmente il fatto di raccontare queste cose cioè ti è facile raccontare che tipo di sforzo è per te no non per me è impegnativo impegnativo perché sto parlando della della mia vita certo e quindi ne voglio parlare con parole appropriate ma non è uno sforzo anzi è una sorta di benedizione vuol dire che quello che ho vissuto ha avuto un senso e può averlo adesso incredibilmente anche per chi mi ascolta parlo soprattutto dei giovani ovviamente perché io poi in quanto individuo non sono un granello nell'infinito come tutti noi ecco però nel mio infinitesimale la mia vita ha raccolto delle cose che riguardano tutti come la vita di ciascuno è un riflesso della condizione umana certo e di queste cose bisogna parlarne perché se si parla di quello di cosa parliamo sì sì sono d'accordo riuscire a a toccare quelle corde che condividiamo tutti esatto facendo sentire quanto l'esperienza che tu racconti abbia a che fare con la mia esperienza che ovviamente è distante nei particolari poi nelle cose che contano sì quella lì esatto siamo usciti tutti dallo stesso grembo materno esatto ok questo è assolutamente vero esatto quindi per me ogni volta diciamo così è una sorta di ma no una sorta una vera e propria spogliazione che io non faccio neanche mai tanta fatica perché ormai mi sono tolto via tutto basta non mi faccio più problemi assolutamente non mi faccio più problemi devo dire mi è molto commosso la la reazione commosso anche turbato un po' la reazione che ci fu dopo la mia dopo la messa in onda di Sampa della docu-serie di Netflix perché ricevetti una quantità di messaggi inimmaginabile di persone che mi ringraziava di aver parlato di me senza paura senza filtri senza reticenze dico ma non ho fatto nessuno sforzo nella mia vita cosa c'ho da nascondere no eppure tu lo dici con questa naturalezza ma mi rendo conto che invece lì fuori riuscire a raccontare in questo modo anche esperienze magari molto meno viscerali molto meno drammatiche risulta difficilissimo siamo tutti presi in questa cosa c'è un aforisma che io tra l'altro ho citato anche nel libro che mi colpi tantissimo letto anche quello a 17 anni quindi l'ho capito finito dopo sapevo che era molto vero e che mi avrebbe riguardato di Antonio Nartò e dice dal giudizio degli altri mi difende tutta la distanza che mi separa da me stesso è bellissimo mamma mia mamma mia ecco l'essere capace di cercarsi di concepire la propria identità come un processo in divenire ecco questo ti salva dai giudizi degli altri gli giudizi degli altri si rivolgono sempre qualcuno a dire che non sei tu che è già passato che è già stato sì sì assolutamente assolutamente tu sei già altrove riuscire riuscire a in qualche modo avere quella consapevolezza di quello che tu pensi di quello che tu sei e agire in conformità a questo è fondamentale a me evidentemente visto che in questi giorni mi capita spesso di citarlo perché è un autore che io riprendo periodicamente che è Epiteto e lui a un certo punto parla della convenienza ok lui dice tu non puoi mai esprimere le idee o esprimere quello che sei perché ti conviene mai mai perché in realtà se tu hai di fronte se Cesare ha di fronte qualcuno che è in contraddizione le sue idee dice io ti taglio la testa io Epiteto rispondo è in tuo diritto farlo tu puoi farlo ma perché io dovrei dannare la mia coscienza per compiacere te quando questo non sarebbe in conformità a quello che sono e conclude dicendo ricordati che ci sarà sempre qualcuno che di fronte a Cesare dirà sì Cesare hai ragione tu e Cesare non avrà nessun problema a metterlo in senato ed è una frase così bella bellissima però quella persona vivrà un inferno perché di nuovo tutto il significato della sua vita dipenderà da qualcosa che non è suo sì sì è una prostituzione è la prostituzione più terribile quella dell'anima è vero ed è e noi con i social network stiamo facendo stiamo vivendo quel tipo di prostituzione c'è questo rischio e trasmettendo un'immagine anche a persone magari che stanno formando adesso il proprio immaginario totalmente distorta convinci gli altri che stai bene e starai bene mamma mia è una cosa terrificante è una cosa veramente terrificante ed è una una dipendenza da cui bisogna da cui esperienze come quella che racconti tu secondo me possono almeno dire guarda che forse non è la strada giusta quella non è la strada giusta non è la strada giusta me lo auguro e poi in mezzo a tutto il resto perché c'eravamo riconosci di fare questo racconta perché mi piacerebbe anche che il pubblico sentisse il tuo incontro con David Bowie e cosa ha significato per te David Bowie cioè nel senso a me è piaciuto quando l'hai raccontato quella sera e mi piacerebbe che lo sentissero anche loro beh sì adesso appunto io sto contando le ore che mancano lunedì andrò a vedere questo documentario su Bowie presentato a Cannes appare molto bello so già che per me sarà un momento molto 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 conturbante perché ci sono anche cose private c'è un bell'archivio privato che non sono mai state viste certo Bowie è stato per me l'incontro con la mia diversità nella sua prima versione diciamo perché appunto ero veramente un ragazzino avevo 13 anni quando ho incontrato questa immagine di questa copertina di queste LP che mia sorella aveva aveva comprato o si era fatta prestare non so lei non era in casa non era in camera sua e quindi io sono andato e ho incontrato questa immagine che mi ha incantato mi ha vinto sono stato lunghi minuti a guardare questo volto e non riuscivo a togliere lo sguardo da questo viso e arrivando a capire a un certo punto perché cos'è che mi attraeva tanto di questo viso era il fatto che io non riuscivo a capire se era un uomo o una donna era una perfetta sintesi un equilibrio perfetto compiuto di questi due caratteri fondamentali diciamo così nei quali si fino a quel punto avevo diviso l'umanità era tutto molto semplice quello è un uomo quello è una donna tutto binario tutto binario ecco quella cosa mi ha completamente sconvolto e mi attraeva tantissimo questo era un viso molto affascinante e poi a un certo punto dopo lunghi minuti di contemplazione vera e propria io dico una cosa che magari può sembrare provocatoria non sono credente quindi come dire l'associazione può far saltare sulla sedia chi lo è io ho ricevuto il volto di Bowie come il cristiano riceve l'ostia il corpo di Cristo esatto esatto è stata la stessa cosa anche quello è stato un mondo che ti è entrato esatto mi è entrato io a un certo punto ho detto uomo o donna chi se ne frega io da grande voglio diventare così così questo è stato l'incontro con la mia alterità il mio essere come dire eccentrico eccentrico come dire non definibile dentro le categorie correnti e Bowie è stato il mio alter ego perché io da allora non ho mai smesso di di scoprirlo di seguirlo ed è stato come dire entrare in un toboga in un otto volante perché questo poi mi sono reso conto che mi ero avevo preso come punto di riferimento un camaleonte uno che non è che cambiava l'abito di scena era un uomo alla ricerca di se stesso e quindi le sue trasformazioni non erano esteriori erano interiori ricerca eh sì 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 ma io sono felice perché lui mi ha reso veramente consapevole di me e poi ha riempito la mia vita ah importantissimo questo peraltro anche io voglio andare a vedere questo docufilm noi non potremo lunedì martedì mercoledì perché siamo in giro a teatri andate a guardare sul sito dailycogito.com per le date però se non siete le nostre date andate a vederlo poi lo recupereremo su qualche piattaforma senti qua prima di passare poi c'è la gente che frega per fare qualche domanda però prima di questo io di solito faccio una domanda di rito che è una domanda fastidiosa forse in alcuni casi se avessi tre libri tu tre libri che sono stati molto importanti per te di qualsiasi genere che dici questi mi hanno nutrito mi hanno dato qualcosa quali sono i primi tre titoli che ti vengono in mente eh lo so è una domanda fastidiosa vero? eh lo so lo so lo so lo so allora guarda allora sì te li dico vai vai viaggio al termine della notte di Selim ecceomo di Nice ok il terzo il respiro di Thomas Bernard eh questo io non l'ho letto io li conosco bene ma questo mi manca devo segnarmelo assolutamente eh beh Thomas Bernard è stato uno dei primi dei grandi scrittori pochi grandi scrittori del secondo novecento allora questo me lo segno assolutamente bene bene io ti ringrazio per questi tre per lo sforzo di trovare questi tre titoli eh allora adesso eh noi andremo a concludere la puntata per chi ascolta indifferita e poi con chi è in live andremo a rispondere a qualche domanda quindi io intanto ti ringrazio tantissimo per questa grazie a te fantastica fiumana di pensieri esperienze parole e chissà che non ci siano altre occasioni per chiacchierare ancora perché è stato molto bello e significativo grazie a tutti voi che avete seguito la puntata ovviamente vi consiglio di guardare in descrizione eh per andare a leggere ovviamente i lavori eh di Fabio e se volete c'è il link per Storytel 30 giorni gratis potete anche ascoltare l'audiolibro ci sono anche i miei audiolibri nel caso insomma quindi c'è tanta roba su Storytel e grazie mille a tutti fate i bravi e mi raccomando non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa grazie mille a tutti Grazie a tutti.